È cambiato qualcosa, sì, è cambiato i giocatori, è cambiato che ora siamo in un momento positivo, non perdiamo da due partite e questo ci deve dare forza e questo poi ragazzi gli dà entusiasmo e gli dà convinzione in quello che stiamo facendo. Ora qualche frutto l'abbiamo raccolto ma appunto come dicevo prima dobbiamo continuare perché ancora il percorso è lungo.